Musica Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video della Maullocraft Signori miei, allora, bello 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 Oggi video, oggi video, oggi siamo più veloci Ciao Fuffi! Fuffi sta qua Fuffi? Ah eccomi, no, ho avuto paura che fosse sordo Ragazzoni, cosa facciamo in questa live? Come avrete potuto leggere dal titolo ragazzoni E faremo i nostri due difensori del nostro mondo, signori miei Ovvero faremo un difensore qui e un difensore là sopra E sì, è un po' una cagata Però dai, dobbiamo inventarci qualcosa di molto simpatico Anzi, mi dovete suggerire sotto nei commenti, raga Lo ripeterò più volte nel video E di dare due nomi a questi guardiani che faremo nel nostro mondo, signori miei Allora, uno verrà fatto qui Quindi faremo una bella casettina qui In modo tale che guarderà tutta questa zona bello, tranquillo Quindi per prima cosa sostituiamo un attimino questa sabbia Questa sabbia di qua Vediamo questa sabbia, raga E mettiamo tutta quanta la terra Perché la sabbia così non mi è mai piaciuta Lo sapete perfettamente Quindi ci sta un bel po' di terra così ad allargare questa zona Bello così Ci posa, ci posa No, magari lì sopra non ci doveva stare Però vabbè Superfluo Allora, leviamo questa di qua Ok Ora, ci serve tanto legno Tanto legno Per il nostro guardiano Sì, sì, sì Allora, recupero i materiali, raga Recupero tutti i materiali E ci vediamo quando siamo pronti a costruire I nostri bellissimi soldati Ok, ragazzoli Abbiamo recuperato tutto quanto il materiale Abbiamo recuperato tutto quanto il materiale Allora Andiamo Cazzarola, raga Un Enderman Un Enderman Un Enderman Un Enderman Ci serve come il pane, raga Ci serve come il pane Zio, guardami Bello Ma che c'è carino Ma che c'è carino Mi servi come il pane, zio Mi servi come il pane La tua Enderper Mi serve come il pane Dove stai? Dove sei andato? Dov'è? No, ma si è buttato di sotto No, è qua, è qua No, mi hai fatto rompere la torcia Brutto bastardo Mi hai fatto danneggia a casa Mannaggia a te Dove stai, zio? Uuuuh, zio, zio, zio No, 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 zio Zio, 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 bel panino Sì, ti puoi tenere il pezzo Ma mi devi dare l'Enderman Mi hanno dato l'Enderman Che Enderman fracco, mamma mia Ma che Enderman Bah Non solo Ci capivano pure gli Enderman fracchi praticamente Allora, mangiamoci un pezzo di carne Allora, signori miei Come ogni bella costruzione che dobbiamo fare noi Prima cosa che andiamo a fare è costruire una crafting table Non ce l'ho questa volta Dove ho lasciato l'ultima crafting table? Ah, là sul monte di ieri Quando abbiamo costruito quella La zona di trekking praticamente Allora, signori miei La nostra zona del nostro guardiano sarà qui Ovviamente non faremo i golem, raga Perché i golem, dico, ci vogliono Ci vuole il ferro che Dico Ci vuole tanto di quel ferro che, signori miei Bisogna proprio Non lo so Avere una fabbrica a casa di ferro Praticamente per avere tutto il ferro che serve Per sfamare quei golem Allora, facciamo altri Sticchetti Altri sticchetti staccionate Se chiamano staccionate? Se chiamano staccionate Staccionate E iniziamo a fare il nostro bellissimo Recinto Ovvero uno Fino a dove possiamo arrivare? Fino a qua Gli daremo tanto spazio al nostro bellissimo Omino della neve Nel nostro bellissimo Omino della neve Gli daremo tanto spazio per potersi muovere, signori miei Mettiamo la seconda e mettiamo anche la terza Ovviamente, raga, gli dobbiamo fare la copertura Perché senza la copertura Il nostro tizio si scioglie al primo sole Praticamente Al primo sole ci saluta Praticamente non è che dici Primo sole Praticamente lo perdiamo Ora, siccome non lo voglio perdere Il nostro bellissimo guardiano Facciamo una struttura Ok Ora Qua ricentiamo Ricentiamo Qua Recentiamo Che vuol dire recentiamo? È italiano Sono dove Recentiamo Non lo so Non penso che sia italiano Recentiamo Allora Qui abbiamo chiuso Perfetto Qui metteremo un cancelletto Che lui in teoria non dovrebbe riuscire ad aprire Dopodiché Allora Facciamo il tetto Raga Faccio il tetto off camera E ci vediamo appena C'ho pure il tetto pronto Ok raga Ok ragazzoli Ci manca l'ultimo pezzo Che un domani Qui ci metteremo Un bel pezzo di Luminite Il giorno che andremo nel nether Il giorno che andremo nel nether Lì ci metteremo Un bel pezzo di luminite Ma attualmente Non abbiamo la luminite Quindi Non possiamo mettercelo Signori miei Non possiamo mettercelo Ci limiteremo a mettere Un pezzo sano Aspettate Sì Forse dobbiamo metterci Un pezzo sano Mi fai salire Gio un attimo Vediamo se qui Ci possiamo mettere Un pezzo sano Cos'è questo rumore? Sentite pure Questo rumore sottofondo Raga Ok Viene messo così Quindi Leviamo questo E ci mettiamo lo slab Che viene perfettamente in linea E ci mettiamo una torcia sopra Una torcia sopra Così non dovrebbe spawnare niente Praticamente Dopodiché Dopodiché Attenzione Leviamo tutto Leviamo sia questo Che questo Ok Prima che Cala la notte Cortesemente Mi crei un cancelletto Carino e coccoloso Che si fa Se non sbaglio Così E così Perfetto Abbiamo il cancelletto Scuro Ok Che lo mettiamo Qui Bello così Dopodiché Signori miei Allora Se la memoria Non mi inganna Dobbiamo mettere Due blocchi Di neve Ok E poi andare a recuperare Una zucca Se la memoria Non mi inganna Se la memoria Non mi inganna Siamo nella cacca Più totale Perché non ricordo Minimamente Come si fanno Ste cose E sarà Il fail Più bello Della vita Praticamente Meno male Che non lo stiamo A fare live Quanto meno Posso recuperare Cancellare E rifare tutto Da capo Ma se non sbaglio Dovrebbe essere Così Ora noi dovremmo Poter mettere La zucca Sopra la testa Del nostro Snow golem Praticamente Quindi Secondo un'antica leggenda Se io la metto La testa lì E sì La testa lì E magari ci mettiamo Anche le braccia Allo snow golem Che dici Quindi tipo così E tipo Così Eh sì Aspetta E così Sì Ce l'abbiamo fatta Raga Ce l'abbiamo fatta Che carino Il nostro snow golem Raga Può uscire No zio Non puoi uscire Meno male Meno male Che non puoi uscire Meno male Che non puoi uscire Ok Ricopriamo i semi E ricopriamo anche questo Che carino Raga Che carino E poi Un consiglio Per fargli la faccia Devo dargli un altro colpo Con la cesoia Vero? Eccolo qua Che carino Il nostro amico Ciao zio Ciao zio Che carino Raga A posto Il nostro primo guardiano L'abbiamo fatto Raga Io direi Questa crafting table La leviamo da qua E la mettiamo qua Signorini Perché una crafting table Può sempre tornare utile Poi dico A rifarla da un'altra parte Non ci stiamo nulla Non ci stiamo nulla Ok Ciao zio Ciao zio Ciao Ciao zio Va bene Detto questo Che abbiamo illuminato qui Il nostro snow golem Bellissimo Il nostro snow golem Si chiama snow golem Certo che si chiama snow golem Posso mettere una torcia qui No E zio dovrei stare al buio Guarda per non farti stare proprio al buio Ti metto una torcia qui E un'altra torcia qui Dai Così non ti puoi lamentare C'è la luce per dormire stanotte Dai Ciao bello Ciao Va bene Fatto questo ragazzoli Torniamo a casa Dormiamo perché sicuramente Sta calando nel sole E dopo di che Organizziamo la stessa situazione Per il guardiano Della parte superiore Praticamente Ok ragazzoli Abbiamo dormito Saliamo sopra Saliamo sopra E il nostro bellissimo snow golem Lo faremo Per riempire questa zona di qua Signori miei Il nostro snow golem Lo metteremo in questa zona di qua Quindi possiamo andare Invece di farlo di legno Signori miei Potremmo sfruttare I blocchi di Come si chiama sto materiale Non mi ricordo come si chiama il materiale Raga Di 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 Granito Ovvero potremmo utilizzare I moretti di granito Signori miei Mettendo poi sempre il legno sopra Non ci mancherebbe altro Però possiamo sfruttare Questi blocchi di granito Allora Allora Questa torcia qui non ci può più stare Mi dispiace per la torcia Mi dispiace per la torcia O se no potremmo farlo più piccolino Così evitiamo No infatti raga Cambio di programma Mi piace Mi piace perché Cambiamo i programmi Così come se Senza Senza problemi Allora Leviamo questo tipo di granito Che non c'entra nulla Dobbiamo fare un altro poco di questi stick Perché non ci bastano questi E facciamo Partiamo da qua Uno Se lo metto lì Si aggancia lì Non è vero Si Se lo metto qua No non si aggancia Bello così Allora non agganciamo nulla Bello così Allora questo me lo metti lì Che ovviamente non si aggancerà Poi andiamo qui sotto Che ovviamente non si aggancerà E poi ne dobbiamo fare un altro Allora facciamo Stessa cosa raga Preparo il tutto L'ambaradan E ci vediamo Fra due minuti Ok ragazzoli Allora la struttura bassa L'abbiamo fatta La struttura bassa L'abbiamo fatta Quindi abbiamo chiuso tutto Purtroppo la simmetria Non mi è riuscita Quindi abbiamo dovuto Fare un'apertura da due Che poi vabbè Sistemeremo dopo Saliamo Iniziamo a mettere il tetto Di questa struttura Raga Che ovviamente Sarà molto più brutto Rispetto a quella di prima Però non ci posso fare nulla Facciamo allora Un contorno Lo facciamo tutto Alla stessa altezza Raga Tutto bello Così lungo lungo A protezione Del nostro tizio Che non ha Purtroppo la possibilità Di mettersi la crema solare Quindi Niente crema solare Lo dobbiamo mettere In protezione Bello così Ok Riesci a ciapparlo lì Riesci a ciapparlo E ciappalo Bravo Ok Dai così Dai 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 Mettiamo tutti questi blocchi Mi sta a venire il torcicollo Sta Eh no Dai ma quanto sono scemo Mi sta a venire il torcicollo Sta così Ok Ora possiamo risalire qui sulla terra Grazie gentilissimo Qui metti un blocco di terra Ok Qui metti questo Ok E andiamo a chiudere questo così Leggermente più alto Con una fila più alta di Di questi blocchi Tutti marroni Sì lo facciamo tutto unico Stavolta Il Tutto monocolorato Il tetto ragazzi Non lo facciamo di due Di due colori diversi Come ho fatto Come ho fatto quello sotto Mi bastano i blocchi Se magari non li Sprecassi Sprecassi Sprecare Ah sprecare Voce al verbo Sprecare Ok Dai così Dai così Dai così Dai 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 zio Bravo zio Bravo zio Ok E abbiamo fatto anche il tetto di questa struttura di qua Dopodiché Facciamo i due cancelletti Signori miei Che anche questi li faremo col 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 cavolo Perché non ho sticchettini Ecco come li faremo Uno due tre Quattro Uno due Tre e quattro Perfetto Al centro mettiamo due di questi Abbiamo due Cangelletti di colore nero Leva questi Questi li metti qua Andiamo a piazzarli Andiamo a piazzarli qui Perfetto Cangelletto uno E cancelletto due Sperando che il nostro tizio Questa volta Ce la faccia La neve Perché quello sotto Non sta a fare neve Raga Uno due Mi serve la zucca Riesce a saltare Riesce a saltare un minimo Piazzala Piazzala Ok Cesoi in mano Dai che ti fa Mua barba No ho tirato via Le cesoi Vuoi prendere Ste cesoi Scemo che non sei altro Ok mettile qua Questo mettile qua Primo colpo E abbiamo Il nostro Snow Golem 2.0 Dai qua ci riesci A fare la neve Dai Che simpatico Ma chi ti ha disegnato Leonardo da Vinci Praticamente Guarda che qua Mi fa la neve Guarda che qua Mi fa la neve Mannaggia Va bene ragazzoli Allora Abbiamo fatto I nostri due guardiani Che in teoria Se dovrebbero spuntare mob Queste dovrebbero pigliare Le appallonate di neve Appallonate di neve Questo mi fa la neve Questo già mi sta più simpatico Raga vi ricordo Come ho detto all'inizio di video Di suggerirmi due nomi Per dare i nomi A questi Nostri amici Amici guardiani I due nomi più simpatici Raga Li daremo Li aggiudicheremo Praticamente Dopodichè Vediamo se sta a fare neve No niente Questo gli secca Gli annoia Gli annoia a fare la neve Questo niente da fare Tu non vuoi fare neve Non vuoi fare niente in questo video Va bene Vattene per i fatti tu Che io me ne vado per i fatti mie È stato un piacere Non mi guardare con questo occhio storto Amico mio Non mi sta per niente simpatico Va bene ragazzoli Detto questo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per tutto quanto Noi ci vediamo Domani Sempre qui sul canale Per un altro contenuto Dai polli Del monte pollo Vi saluto Ci vediamo domani Sempre qui Bella raga Ciao Ciao